35esimo Torino Film Festival, sono Angela Cerbi per Frel Film Radio e siamo qui con una parte del cast del film Favola di Sebastiano Mauri, con Sebastiano qui, con Sebastiano Mauri, Lucia Mescino e Filippo Timi. Buongiorno a tutti e tre. Allora, la prima domanda è un po' ovvia, ma mi tocca farla. Questo film parte da uno spettacolo di Filippo, uno spettacolo teatrale che ha avuto un grande successo, dove Filippo recitava anche Lucia, e poi avete deciso di fare un film. Le differenze, quali sono stati? Il lavoro più difficile di adattamento del teatro al cinema qual è stato? Forse il lavoro più difficile è stato, una volta scelto di fare questo spettacolo, cercare di dimenticarselo il più possibile e di in fondo tradirlo, nel senso che è necessario farlo quando si traduce qualche cosa da un medium a l'altro, sia che sia esso un romanzo, uno spettacolo teatrale, se lo si porta al cinema la fedeltà non è, a mio avviso, la migliore delle strade. Quindi il grande passo è stato appunto questo, di reinventarlo, di riuscire a tradirlo, a staccarsi, a rimmaginarlo. Forse per loro è stato uno sforzo ancora più grande, perché non solo l'anno, entrambi l'hanno interpretato così come Luca Sant'Agostino per molti anni, quindi avevano queste battute, questi personaggi che gli erano già entrati sotto la pelle, che magari uscivano anche automaticamente in un modo. E poi anche per Filippo, che ovviamente è stato l'inventore, il creatore di questo mondo a teatro. Eh ma infatti Filippo, hai fatto tanta fatica a abbandonare delle parti della versione teatrale a favore di quella cinematografica o ti è venuto in scioltezza? No, allora quello che sembra scioltezza è come nel pattinaggio artistico, no? Fai un doppio axel, tu lo guardi e dici... Che sarà mai! Grazie, buh salto e vado. Uguale per ogni ruolo. Cioè è chiaro che fuori deve sembrare tutto che accade lì, in quel momento. È vero che nel teatro c'è stata la costruzione di un personaggio, appunto perché tu a teatro sei tu che ti dirigi, sei tu che crei i primi piani al pubblico. E invece al cinema il personaggio non funziona, perché il personaggio non... Chi di noi... cioè non ha bisogno di mettersi in mostra, di dimostrare qualcosa. Infatti il lavoro più duro che Sebastiano ci ha costretto a fare a tutte e tre, a tutte e cinque, poi comunque gli attori... No, no. Sì, ci è stato già detto prima. Con l'estremo amore, invece, è stato quello di trasformare il personaggio in una persona. E questo ha sfaccettato le cose, le ha approfondite, se vuoi, per alcuni versi. E quindi... ed ecco che è nato il film. Il film e il teatro sono due sport diversissimi. Certo. È come se il film è sciare, teatro è calcio. Tu non puoi fare gol con gli sci e non puoi fare appunto uno slalom vestito da calciatore. Quindi proprio non c'entrano niente, apparentemente. Eppure è quel mondo lì, è quella cosa lì. Perché? Perché le domande di base sono domande serie che ci costano a noi che abbiamo fatto il film. Quindi è stata abbastanza... Beh, è stata una soddisfazione, immagino, alla fine, ma attraverso un percorso abbastanza impegnativo. Beh, quando è impegnativa quello che metti in gioco, sì. Cioè il film è il darsi la possibilità di essere felici per come si è. E quindi immaginati, è un tema che da dove lo guardi è importante. Certo. Ed è importante però anche il non perdere la leggerezza. Infatti si ride. Ma infatti la cosa, devo dire che, e volevo chiedere a Lucia questa, la cosa che mi ha molto colpito quando io ho visto il film è che tutta la prima parte, quando siamo nel mondo fatato di Miss Fairy Tail, di questa casa fantastica dove lo scenografo e l'ar direttore ha fatto un lavoro impressionante. Voi siete bellissime. Grazie. Tu, Miss Fairy Tail e il tuo personaggio, siete veramente bellissime. E volevo chiederti, rispetto al teatro, tutto quello che c'era intorno, cioè la scenografia, i costumi, le luci, questa possibilità che il cinema ti dà di essere più grande e più visto e più visibile. Quanto ti ha aiutato, se ti ha aiutato, se è stato più limite? Il cinema ha aiutato tantissimo, perché intanto, diciamo che la scenografia, i costumi, c'è stata la collaborazione ovviamente di scenografi e costumisti, però molto è venuto anche da loro, nel senso che sia Sebastiano, che è un artista visivo, che Filippo, hanno molto contribuito, secondo me, proprio a immaginare questo luogo ancora più ampio di quello che c'era in precedenza. Quindi proprio veramente anche lì si è tutto trasformato. E delle cose che noi abbiamo sempre immaginato come sarà il bagno. Quando io andavo dietro l'angolo, che non c'era niente ovviamente, invece qui giri l'angolo e c'è una cucina pazzesca, che dici la voglio a casa, non smontate la scenografia, ci voglio vivere. E quindi si è tutto amplificato in un modo veramente incredibile. Potevi fermarti in ogni angolo della casa e stare dieci minuti solo a guardare quanti oggettini c'erano, perché appunto appartiene all'immaginazione di questo personaggio, che è Favola, che ha una grande immaginazione, è anche costretta a immaginare per la situazione in cui è, che non sveliamo, e per cui è molto ricco. E quando tu c'hai tutta una cosa molto ricca intorno, e quando hai dei costumi molto... E' come se puoi fare anche molto poco, perché sei già... E' già molto espresso intorno, e quindi questo ti dà una comodità pazzesca, perché veramente puoi semplicemente ammirarti le unghie delle mani rosse, che non hai mai avuto nella vita, e in quel momento fai un gesto. Per esempio, per assurdo, a me le mani mi sono cambiate tantissimo nel film, perché avere queste... Vabbè, è una sciocchezza, dice, ma come hai interpretato il personaggio, con tutte quelle profondità, eccetera, parli di unghie. Ma c'è proprio una gestualità che cambia, e dava un gusto, ti giuro. Dici, per un attimo io ci ho vissuto negli anni 50, comunque. Ah, ma si vedeva così. E ti posso dire, ci stavo anche comoda, dal punto di vista del look, a parte il bustino. Per il resto preferisco la modernità, insomma, per il cuore della donna. Difatti, una cosa anche che secondo me ha aiutato molto, è che tutta questa prima parte, anche coreograficamente molto bella, a parte le coreografie quando ballate, ma anche proprio a livello di movimenti, di scene, movimenti di macchina, secondo me questo ha dato, è stato un surplus rispetto alla versione teatrale, che ha dato molto più spessore alla storia. E anche per poi il cambio di ritmo e di tema, che il film ha, che non stiamo a dire qual è, che è molto, è proprio uno schiaffo in faccia, ci rimani proprio male, cioè non te lo aspetti e vuoi capire perché succede. Da cui la mia domanda, anche perché non posso dire niente, quindi mi sto arrampicando sui vetri, ma avete scelto di due personaggi che nella versione teatrale non c'erano nei film ci sono, che sono il marito, Stan, e la mamma, che è Piero degli Esposti, che è un personaggino, mica da ridere la signora, ecco. Come mai avete deciso di inserirli proprio fisicamente, cioè realmente, nella parte cinematografica? Ma intanto perché ne avevamo la possibilità più facilmente che a teatro, in cui dovevi aumentare il cast di due persone, portarti dietro, eccetera. Sono due personaggi molto importanti nella storia, anche nella versione originale, teatrale, però appunto uno è sempre trasparente, abbastanza nel senso che quando parlavano al marito era sempre al di là della quarta parete, come se fosse seduto in mezzo al pubblico, mentre madre era sempre al telefono. In questo caso abbiamo potuto allargare il suo ambiente, la sua cerchia comunque molto limitata di persone con cui interagisce, perché appunto nel film sono comunque cinque gli attori, Sergio Arbelli che fa Stamp, degli Esposti che fa Madre, poi c'è Luca Sant'Agostino che fa tre personaggi, barra quattro, dopo lo svelamento finale, e poi Lucia e Filippo, per cui comunque è abbastanza ristretto. Però ci siamo dati questa possibilità, in fondo Madre credo che tutti noi, negli anni in cui facevano lo spettacolo teatrale, ce la siamo immaginata, le abbiamo dato un corpo, e avevamo voglia di conoscerla, così abbiamo deciso di presentarcela. E Filippo, come mai avete scelto proprio Piera, degli Esposti, che è perfetta, che ha quella giusta, quella mistura di amorevolezza, amorevolezza e perfidia, come mai proprio lei? Ma un po', allora, c'è stata una ricerca, inizialmente, un po' come idea, non tanto su chi poteva essere credibile, ma proprio sull'immagine di questa Madre, no? Cioè, dovendola inventare, è capitato che avevo fatto un lavoro con Piera, avevamo fatto un lavoro con Piera per i delitti del Barlume, da poco, e parlandone con Sebastiano, insomma, ci è sembrata perfetta, proprio per questa commistione, tra dolcezza e questa cosa che non... Piera è comunque molto giocosa, anche come attrice, no? È proprio, c'ha quella parte infantile di gioco, che si abbina molto bene, secondo me, al tipo di lavoro, che è così serio, ma anche così giocoso, e poi, secondo me, è bellissimo che lei parte, dura, proprio, è il giudizio negativo della Madre, cioè la cosa che tutti noi abbiamo l'incubo che possa accadere, una Madre che ti giudica così negativamente, e poi, senza svelare il finale, quando, poi c'è la trasformazione dello sguardo del giudizio della Madre, verso la fine, e ti si apre il cuore, perché dici, anche la Madre, è proprio un simbolo lei, come il giudizio con la G maiuscola, e quindi ci stava, no? Ci stava bene. E poi devo dire che anche lei era talmente perfetta a livello estetico, a livello di vestiti, il cappellino, il modo, ecco, un'ultima domanda che volevo farvi è questa, che è una cosa che mi ha colpito assai, è stato il linguaggio, nel senso, sì, Miss Fairy Tale, che il favola parla in un italiano un po' aulico, un po' antico, un po' l'italiano degli anni 50, cioè il modo, beh, certe pronunce di parole, certe cose, è una cosa che io ho molto notato, no? Me lo sono inventato? No, 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 allora, non c'è una parolaccia, no, film, il massimo che arrivo a dire è ammennicolo, membro, banana, vabbè, sì, lì poi ci dico, sì, lo dico come se fossero vent'anni che non faccio la cacca, cioè, capito, proprio, è un, proprio, è il, insomma, è vero, ma noi siamo il nostro linguaggio, no, ma quella cosa lì ho trovata vera, era l'ulteriore, quali, caratteristiche, la ciliegina sul personaggio, il fatto che lei, con le zeta poi dure, esatto, esatto, quello è una citazione un pochino alle doppiatrici degli anni cinquanta dei film italiani, no? No, infatti, che per dire buon compleanno, aggiungevano treenne, a buon compleanno, no? Cioè, era tutto uno sbirignao, esatto, c'era un sbirignao a spiove, ecco, render credibile quella, cioè, render credibile una frase, tipo, che c'è nel film, più una donna fatica in casa, più bella è agli occhi del marito, cioè, hai capito, è storia, è storia, è storia, ma è storia, è vero, molto vero, bene, io vi ringrazio molto, grazie a Filippo Time, grazie a Sebastiano Mauri, grazie a Lucina Mascino, del film Favola, al Torino Film Festival, e sono Angela Cerbi, per Fred Festival Insider. Grazie a tutti,